Tutti i giorni qualcuno telefona per qualcosa, allora uno si è informato e molto meglio. È importante sapere come comportarsi. Da quella del finto carabiniere al falso funzionario, ma anche online, tramite mail, sms o su whatsapp, sono decine le tipologie di truffe ad anni degli anziani. L'ultima mi è arrivata che è la famosa, quella di mamma mi si è rotto il telefono. Cosa le hanno detto? Niente, io non ho aperto nemmeno, io non apro. Un fenomeno ormai sotto gli occhi di tutti, con numeri in continua crescita anche nell'aretino. E così, partendo dal già significativo titolo Non aprite quella porta, CNA è scesa in campo. Proprio un horror era quel film. Noi, le truffe di anziani, non siamo a quel livello, però è per ricordare un pochino una situazione di drammaticità, perché certe truffe mettono veramente in difficoltà le persone, soprattutto gli anziani, che si sentono inadeguati ad affrontare quelle situazioni. A dispensare consigli per evitare di cadere nelle trappole di malintenzionati, sono stati proprio rappresentanti delle forze dell'ordine. Allora, devono stare attenti sicuramente alle persone che non conoscono, perché purtroppo i truffatori si approfittano a volte dell'ingenuità dell'anziano, che è propenso a fidarsi più delle altre persone anche con gli sconosciuti. Quindi effettivamente anche il titolo dell'incontro di Erno rende l'idea. Non aprite quella porta, poi io potrei aggiungere non aprite quell'SMS, perché anche dagli SMS e dagli eventuali messaggi WhatsApp possono derivare insomma delle truffe che riescono a carpire denaro ai poveri anziani. L'invito dunque è quello di contattare il 112 in caso di qualsiasi dubbio. Sono molto frequenti perché c'è un'abitudine delle persone che quando vengono truffate sono reticenti, quindi hanno vergogna di quello che è capitato e quindi non tendono a parlarne, ma tendono a subire. Ecco perché bisogna avere il coraggio di affrontare l'argomento anche nelle sedi istituzionali per far sì che questi metodi di raggiro vengono a cessare.